Un aiuto ai maestri di sci e alle proloco della Toscana, categorie colpite gravemente dalla crisi provocata dalla pandemia. Fondi messi a disposizione dal Consiglio regionale della Toscana limando le spese della politica e i costi di rappresentanza per un totale di un milione e mezzo di euro. Dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea Toscana lo scorso 26 gennaio sono stati messi a disposizione 450 mila euro. Abbiamo deciso di sostenere le attività culturali, di sostenere le proloco e infine i maestri di sci. Stanno vivendo in questi mesi enorme difficoltà. Questo è il modo con cui noi vogliamo essere davvero vicino a chi soffre, a chi non ce la fa, con un ristoro seppur piccolo ma che è una boccata d'ossigeno sperando in una ripartenza e in un futuro migliore. 200 mila euro ai maestri di sci. Per loro sarà possibile presentare la domanda entro il 15 marzo compilando il modulo disponibile sul sito del Consiglio regionale. I beneficiari riceveranno un sostegno di 800 euro una tantum per il 2020. Per accedervi è necessario aver lavorato in modo continuativo in Toscana e essere iscritti all'albo professionale. Questa è un'iniziativa molto importante per la montagna, una stagione che non è mai iniziata. Tante famiglie, tante persone che vivono in montagna di questo lavoro. Sono senza uno stipendio, senza nessun tipo di risorsa economica dal mese di marzo dell'anno scorso. Ci aspettiamo ovviamente molto di più. La montagna è un ambiente delicato, un ambiente fragile, va in qualche modo custodito e quindi siamo qui alla ricerca di aiuti. Bando aperto fino al 26 marzo invece per le proloco, con identiche modalità di richiesta. Tutte le proloco sono veramente grate al Presidente Mazzeo, a tutto il Consiglio che ha avuto la sensibilità unanime di deliberare un contributo per le proloco che purtroppo sono anche esse vittime della pandemia che ci ha colpito perché l'anno scorso sono riuscita a fare pochissime manifestazioni di quelle normalmente in calendario che servono per valorizzare le località in cui operano. Grazie. 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 Grazie.